ciao a tutti allora una precisa questo video post questo canale è quasi lo stesso che ho messo sul mio primo canale ovvero marco violani andate a vedere il video a differenza dell'altro video che ho messo sull'altro canale voluto farlo un po di free quindi in questo video troverete solo delle foto forse qualche video in mezzo ce lo metterò anche forse e che altro vabbè sono le foto delle mie vacanze al mare questo sicuramente l'avete già lei e quindi inutile che sto a dir di tutto un'altra parte Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, finalmente un po' di mare. Oh, un po' di mare. Finalmente. Non è la giornata ideale. Non è la giornata ideale. Non è la giornata ideale. No, non è la giornata ideale. oh no ci siamo persi la danza dei gabbiani va so high up here Grazie a tutti. Se siete rimasti fino a qui vuol dire che il video vi è piaciuto? Bene. Però vedo poco pubblico. Va beh. Allora io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.